La pubblicazione dei movimenti per i docenti di ogni ordine e grado è prevista ufficialmente il 24 giugno. Dunque il 24 giugno 2019 saranno resi pubblici i bollettini ufficiali per la mobilità 2019-2020. Probabilmente, ci comunicano dal MUR, già sabato 22 giugno sarà possibile nelle istanze online e nella sezione archivio avere la notifica dell'esito della mobilità, ma è presumibile che questo avvenga. L'ufficialità è sicuramente il 24 giugno dove usciranno i bollettini ufficiali della mobilità 2019-2020. Per quanto riguarda i reclami, ai sensi dell'articolo 17 del CCNI sulla mobilità 2019-2022, i docenti avranno 10 giorni di tempo per eventualmente proporre reclamo. Dunque la scadenza dal 24 giugno fino al 3 luglio ci sarà la possibilità di proporre reclamo da presentare all'ufficio scolastico provinciale di titolarità. Inoltre diciamo che per il personale ATA saranno pubblici gli esiti della mobilità giorno 1 luglio, così come anche per i docenti di religione cattolica. Per quanto invece riguarda il personale educativo ci vorrà il 10 luglio per avere gli esiti dei movimenti. Ricordiamo anche che è stato già sottoscritto all'ipotesi di contratto integrativo per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Probabilmente queste domande potranno essere presentate nella prima decade o le prime tre settimane del mese di luglio, ma ancora questo non è stato ufficializzato. Seguiteci ancora nel nostro canale YouTube, seguite il nostro sito www.tecnichellascuola.it, proponete domande, scriveteci per avere approfondimenti, faremo altri video che riguarderanno in particolar modo la mobilità annuale, cioè le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Arrivederci! Grazie! Grazie! Grazie!